Ah, Spiro! Una faccia amica! Un gruppo di ignobili ladri ha rubato le candele e io sono bloccato qui! Per favore, riportamele! Non serve a nulla senza le quattro candele! Wow! Sono di nuovo in marcia! Ecco, giovane amico drago! Prendi questa! È un pezzo da museo, ma tu te la meriti! Hmm, ora devo solo escogitare un modo per ricavare l'avorio da quelle bestie prima che scompaiano! Grazie!